Buongiorno da Edo, dai creatori di Go e dai produttori di Dart arriva un nuovo linguaggio di programmazione nelle sale Carbon, Carbon, il successore di C++ Scusate l'introduzione un po', c'è caldo, devo essere un po' frizzante Allora, Google ha presentato Carbon, che è davvero il successore di C++ Perché un successore di C++? Perché dobbiamo creare un nuovo linguaggio invece di migliorare quello esistente? Ci sono una serie di ragioni, in realtà C++, immaginatevi un linguaggio che ha così tanti decenni sulle spalle Quanto debito tecnico si porta dietro, quanto è difficile fare dei miglioramenti Soprattutto senza andare a stravolgere tutte le codebase già esistenti che si basano su quel linguaggio E in più, C++ è guidato da un comitato, le cui decisioni sono abbastanza lente Come è ovvio che sia per l'importanza che ricopre questo linguaggio nell'informatica mondiale? Benissimo, quindi in Google hanno deciso, invece di scontrarsi contro queste difficoltà Di creare un linguaggio che sia perfettamente compatibile con le codebase C++ esistenti Ma che offre tutta la serie di vantaggi dei linguaggi di programmazione moderni Quindi, per esempio, i generics, un sistema di generics avanzato Anche una struttura del codice più moderna e una sintassi moderna Facile da leggere, da capire per i nuovi programmatori E poi tutta una serie di community attorno Lo chiamano ovviamente community driven sviluppo di questo linguaggio Vogliono fondare molto sulla community l'avanzamento tecnologico di questo linguaggio Approfitto di un articolo di The Newstack Per farvi vedere un attimo le differenze tra C++ e Carbon Questo è un pezzo di codice in C++ Magari scenderà una lacrimetta a chi una volta Vabbè, questo era C++ E questo è invece l'equivalente in Carbon Quindi vedete che per chi ha familialità con C++ Il passaggio potrebbe essere abbastanza tranquillo Per gli altri invece abbiamo un... Per chi si affaccia oggi al mondo della programmazione C++ Che comunque ricordiamo è super importante per software che hanno criticità nelle performance Nella sicurezza Ci sono tutta una serie di settori di informatica che hanno bisogno di feature Che solo C++ e pochi altri linguaggi danno Oppure che oggi sono forniti da nuovi linguaggi come Rust Che però naturalmente richiede una serie di competenze nuove E soprattutto di compatibilità con codebase precedenti Che è difficile da trovare Per questo la proposta di Carbon Tutto qua Vedremo come andrà Festeggiamo per oggi questo nuovo arrivato Questo nonato Chiudiamo con una nota Perché volevo essere così Voglio essere anche fresco oggi Metaversi Era un po' che non parlavamo di metaversi Ho letto questa roba In pratica Meta sta facendo molte ricerche Sta portando avanti molte ricerche Per creare dei vestiti Dei vestiti super realistici Per avatar super realistici Sapete che Meta ha investito Una valanga di soldi e di PR Nel concetto di metaverso E quindi adesso vogliono puntare Alla creazione di questi avatar ultra realistici Espressioni facciali Movimenti degli occhi Pelle Arti Tutto perfettino Ovviamente Cosa manca? Mancano i vestiti Che devono essere perfettamente ritagliati Sugli avatar realistici Devono avere dei movimenti Del tessuto super realistico E ovviamente per tutto questo Serve anche una potenza computazionale pazzesca Tanto è vero che Per adesso su una scheda grafica Di super fascia alta Il movimento di questi avatar Con questi vestiti È ancora fermo a 12-13 frame al secondo Ma con il machine learning Si riuscirà ad andare oltre Quello che mi chiedo io Chiedo anche a te Ma perché dobbiamo creare Una versione virtuale di questo mondo Mantenendo esattamente le stesse caratteristiche Del mondo reale Perché Non potremmo invece fare cose Più Belle Invece di portare le stesse identiche cose Vabbè Sono fantasticherie In realtà Quello che sta provando a fare Facebook È di rivendere Questo tipo di esperienza Come un'esperienza Business Lavorativa Dove La riconoscibilità della persona Sarà fondamentale Per qualche motivo E quindi Chi sperava di divertirsi Con il metaverso O chi sognava Mondi fantastici Dove poter creare Un'alternativa versione di sé Sarà deluso Perché Per questi di noi A cui piacciono queste cose Rimangono gli universi A blocchettoni Come Minecraft E Roblox Per chi invece Ritiene che la cosa Fondamentale sia Il business Ci sono Gli avatar Super realistici Ciao